88 e tanti saluti eccola la si si ho visto visto fa girare i can un attimo che non è l'unica c'è ma i can che dopo mi motorla si si ho visto che non è l'unica però il fatto è che il cane non sta fermo questo è il problema perché se il cane sta fermo la differenza può stare e invece il che corre il rio è carica non è l'unica non è l'unica c'è che è piante non è l'unica lì in fondo niente niente sono contrario proprio per principio perché i cani ti distruggono se ti vuoi andare a fare caccia serie non ti puoi fare queste cacce qua ma poi dipende cosa che uno vuoi fare la vicino alla muretta ma forse a poi un po perché sono stato attento si si poi io ti ho detto guarda che il cane l'ha sentita no ma che qui uno giappe in bocca a bestie guarda che bella che si arriva in bassa mare questa è perfetta perfetta tienila a parte che vuoi darmela a me che me la metto via guarda perfetta è femmina così grande perché il maschio è ancora più grande ma guarda che colonna questa è molto bella tienila un attimo molto molto bella dammela a me che la metto